Buongiorno a tutti Oggi siamo nel gruppo del Brenta, ad Amello Brenta Siamo partiti da Malga a Movlina e stiamo andando verso il rifugio 12 Apostoli Il Brenta è nascosto dietro gli alberi al momento Ma intanto stiamo godendo il fresco di questo bosco meraviglioso pieno di rododendri e di felci E ci vediamo dopo Grazie a tutti Una valle bellissima Sembra di essere in paradiso Grazie a tutti E lassù contro il sole si vede il rifugio 12 Apostoli Dove due domani Grazie a tutti. 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 E adesso la lunga discesa. Grazie a tutti. E dopo tante ghiaie, finalmente ritorniamo sull'erba e su un bel sentierino. Che bello. Monica in un giardino fiorito di rododendri. Che bel giro, vero? Bellissimo. Bellissimo. Che bello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.